Good morning Milano! Buongiorno, eh sì, oggi serviva un'apertura così, eh, dopo il sax anni 80 di Antonello Venditti con il nostro Crystal History serviva un good morning Milano per darvi la spinta perché oggi è venerdì e quindi tutti insieme, thanks God, it's Friday! E' venerdì, è venerdì per tutti, anche per noi, sì, che bello, arriva il weekend, arriva la pausa, arriva il giorno, uno dei pochi giorni in cui possiamo svegliarci un po' più tardi finalmente, ma so che molti di voi, ahimè, invece, anche il sabato devono svegliarsi presto perché lavorano anche il sabato e anche alcuni di voi la domenica, quindi auguri a tutti quelli che in questo weekend dovranno lavorare, siamo con voi e voi invece potete essere con noi al 331-7853-555 e quindi potete tranquillamente scriverci, mattinata che, insomma, speriamo vada tutto bene anche se incominciano ad arrivare notizie che forse ci sono un po' di problemi in giro per la città, ma adesso poi andremo a vederli, c'è per domani una manifestazione in programma per i motociclisti, dopo la vediamo, nel senso che il nuovo codice della strada, da una parte, ha fatto arrabbiare i ciclisti, le nuove regole che entreranno in vigore in quest'anno per area B e area C invece hanno fatto arrabbiare i motociclisti, quindi tutti sul piede di guerra vedremo cosa fare, sta di fatto che adesso stiamo partendo e un altro classico, super classico, qui su Crystal Radio a Good Morning Milano, stiamo parlando di Vasco Rossi, bollicine! Vasco Rossi con bollicine alle 7.16 di oggi, venerdì 15 marzo. Vi dicevo appunto che insomma le giornate potrebbero essere un po' complicate e infatti dal sito di ATM arriva un alert, una info, perché la M5 questa mattina era chiusa fino a poco fa nel tratto Segesta, non mi ricordo più cosa, l'ho appena letto ma non mi ricordo, ma comunque l'hanno riaperto, quindi tutto a posto, tutto bene, quel che finisce bene, ma attenzione perché era molto corta, nel senso che sì, ATM nel tratto tra Bignami e Cenisio e poi San Siro se gesta, ecco insomma non era poco, adesso invece è stato tutto riaperto tranquillamente, ma da una mezz'oretta è stato riaperto tutto, ma attenzione perché va tutto molto più lentamente, quindi il sito ATM dice considerate possibili maggiori tempi di attesa e di viaggio, abbiamo da poco riparato un guasto sulla linea e parliamo appunto della linea M5, armati di santa pazienza, venerdì per tutti e venerdì anche per ATM evidentemente, ma dicevo che domani invece ci sarà una manifestazione abbastanza, sembrerebbe grossa, adesso vediamo poi se sarà veramente così o no, perché i motociclisti si danno appuntamento perché sono in rivolta contro i divieti a Milano e quindi domani è raduno in via Corelli e Carovana fino al Duomo, la manifestazione appunto dei motociclisti di sabato domani, di sabato 16 marzo appunto di domani. I motociclisti appunto rispondono con un motoraduno per sabato 16 marzo al calendario dei divieti del comune di Milano, dove ricordiamo che dal 1 ottobre 2024 sarà vietata la circolazione in area B a tutti i motociclisti e i motocicli a benzina a quattro tempi, Euro 0 ed Euro 1. Milano Today dice cioè tutti quelli omologati fino al 2002, quindi prima del 2002. Nel 2025 poi saranno fermati i motocicli Euro 2 e nel 2028 quelli Euro 3, voi dite eh 2028 e dopo domani ragazzi, non ve ne accorgete neanche che dite ah vorrei cambiare la moto, poi vi dimenticate perché avete tante altre robe da fare in una città come Milano che vi chiede soldi su ogni angolo di strada e quindi poi vi ritrovate nel 2028 con la vostra bella moto Euro 3 che pensavate essere il non plus ultra di tutto quanto e invece non potrete più circolare. Al momento invece il problema nascerà ad ottobre 2024 perché in area B sarà vietato appunto l'ingresso ai motocicli a benzina a quattro tempi, Euro 0 ed Euro 1. Qui è un bel problema nel senso che davvero continuiamo a fare questi divieti che hanno da una parte ovviamente ragione perché la città deve essere sempre più sgombra e sempre meno inquinante e dall'altra parte i motociclisti dicono anche attenzione poi le nostre moto continuano a inquinare sempre di meno. Noi non siamo il mezzo che congestiona la città perché punire anche noi è un bel dilemma, è un bel dilemma che divide davvero tanti, 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 tanti anche che sappiamo ad esempio essere ambientalisti o comunque vivere la città e vivere magari in scooter e quindi anche lì capito che non è semplice arrivare a una conclusione. Mi spiace che come al solito si arrivi allo scontro da una parte appunto sala, la giunta sala dall'altra ad esempio la consigliera comunale Chiara Valcepina consigliera comunale e regionale di Fratelli d'Italia che appunto sta un po' cavalcando l'onda di questa protesta e domani appunto ci sarà questo raduno, un motoraduno in Via Corelli con questi motociclisti che poi andranno fino al Duomo alle ore 16 se volete andarci anche voi, alle ore 16 al centro Saini, Via Corelli c'è tutto il posteggio, da lì si parte Carovana fino al Duomo e invece come va il traffico questa mattina? Lo chiediamo e lo scopriamo grazie a Luce Verde, a voi Luce Verde! Dua Lipa Training Session alle 7 e 24 minuti, eccoci qua di nuovo con Good Morning Milano 3317853555 il nostro numero di Whatsapp, grazie mille ad Alberto con il suo Whatsappino del mattino buongiorno e buon weekend a tutti i cristallini, al nostro direttore zio Fabio, grazie mille Alberto finalmente si prospetta un weekend primaverile di bel tempo, sì va bene, io non faccio vedere dove ho messo le mani in questo momento sotto il tavolo perché non sa mai, no no no, eccole qua, mani in alto, mani in alto sappiamo che le previsioni dicono che dovrebbe andare tutto, tutto bene, dovrebbe esserci un bel weekend quindi godetevelo, anzi magari potete iniziare a fare i vostri giri fuori porta, le vostre scampagnate dove andate, ricordate i tempi del buon Masieri che ci raccontava che andava alla polentoteca chissà quante volte ci è già andato, chissà, chissà fatevi un giro, anzi se avete programmi per questo weekend 3317853555 noi siamo qua, raccontatecelo, diteci dove volete andare e noi vi diciamo se farlo o non farlo attenzione però perché fra poco, dopo la prossima pausa, c'è lei che vi dice invece cosa non fare ok, perché sì, sta arrivando il ribì, sta arrivando il ribì con gli eventi della settimana a cui lei non andrebbe ma prima di questo, notiziola, notiziola da Corriere della Sera Milano parliamo ancora di case, casa a Milano crollano gli acquisti con il mutuo e aumentano quelli per investimento ma di appartamenti da 50 metri quadri l'ultimo trimestre dell'anno è registrato un meno 2,3% sulla vendita delle case in città ne è venuto un miliardo e mezzo fino a ieri quindi ci sta che forse qualcosa rallentava che dite, per quanto riguarda i prezzi invece c'è una crescita del 2% nella zona sud che strano, casualmente Olimpiadi, Villaggio Olimpico, Porta Romana M4 che viene giù verso l'Orenteggio chissà come mai la zona sud sta cominciando a riqualificarsi il risultato quindi è negativo ma meno peggio del previsto le vendite di casa a Milano, secondo le rilevazioni dell'Agenzia delle Entrate e stiamo leggendo da Corriere della Sera Milano nel 2023 sono state 24.832 con un calo del 13% su base annua insomma, dopodiché il dato nazionale è che invece sono scese del 9,5% gli acquisti in tutto la nazione quindi insomma ci stava che a Milano dove prima era un plus 200 milioni di per cento adesso arrivi un calo sta di fatto che forse anche le varie inchieste non aiutano perché sempre invece dai giornali, leggiamo da Repubblica Milano inchiesta sull'urbanistica sotto indagine anche il progetto di via Le Pontina un palazzo nel cortile e sono partiti sei avvisi di garanzia per abuso edilizio ottavo fascicolo aperto alla procura nel registro di indagati, costruttori e come sempre anche funzionari comunali ma staremo a vedere perché tutti quelli che sono in questo momento dentro a questa storia dicono ma è stato fatto tutto con regole del momento quindi se c'è un problema il problema sta nelle regole vi assicuro che anche qui vicino a noi abbiamo praticamente un condominio un palazzo, un muro costruito un muro di appartamenti costruito all'interno di un cortile fondamentalmente e staremo a vedere se anche lì arriveranno le indagini ma attenzione perché se rimane le indagini si firma il cantiere se si firma il cantiere rimane l'ecomostro quindi cosa è meglio, cosa è peggio cosa farà poi sbloccare o non sbloccare la situazione qui è veramente veramente un gran problema e questi sono i problemi anche di una città che sta esplodendo come Milano Ermalmeta, Ermalmeta alle 7.36 minuti ma prima di andare avanti qua con le nostre notizie e tutto è arrivato il momento di quella rubrica settimanale di cui non potete fare a meno Gli eventi della settimana a cui non è Andrei buongiorno Fabio e buongiorno Cristallini a me che entusiasmo immotivato ho sentito che i tuoi ospiti fanno questo io sono maleducata e non lo faccio mai vabbè non c'era dubbio, non avevamo dubbi sul fatto che non lo veste quindi buongiorno a tutti che bella giornata che ci aspetta perché è venerdì? perché è brutto il venerdì? no, è bella giornata appunto no, no, infatti ah, sembrava sarcastico il tuo no, non era ironico e sarcastico era realistico bene, bene, allora Ribi come va? Allora, siamo pronti per sapere dove non andare? siamo prontissimi, prontissimi intanto vi dico che c'è tira sulle mani che l'ha detto anche la nonna di no, mi stavo grattando un ginocchio ecco, apposto aspetta, facciamo le lampadine non ti vedono in radio va bene, dai, bando al licenci e iniziamo tira sul braccio iniziamo, sto così no, no allora, allora, allora intanto questo è il weekend di San Patrizio sappiamo tutti che il 17 di marzo oltre a essere il compleanno di Andrea Nenna che nessuno di voi conoscerà ma noi sì ah, tanti auguri a Andrea Nenna è il giorno di San Patrizio ok e da buoni irlandesi che siamo berremo un sacco di birra va bene, sì, sì no, vabbè, comunque iniziamo primo evento Scighiera Milano domenica, appunto, a San Patrizio ci fa un bellissimo evento dalle 17.30 c'è il laboratorio per produrre il pane e portarselo a casa eh, non è bello? siamo tornati in lockdown? ma no, va bene no, no, lì te lo facevi direttamente a casa ah, ok, ok boh, non lo trovo interessante va bene, ok però, cioè, andate magari mi dite oh, sai che cosa ho imparato a fare? l'amichetta dubito bello dubito secondo me faranno tutti gli ispirativi ispirativi via o forse la baguette forse forse poi, 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 poi allora, c'è una roba interessante allora, luogo Sesto San Giovanni sì ok c'è il festival di street food attenzione buono street food Valtellina versus Brianza a Sesto San Giovanni va bene, la porta da Brianza ci stava, dai dal 15 al 17 di marzo c'era scritto gratis quindi prevedo un sacco di gente che va a mangiare pizzoccheri e Brianza sì, ma è gratis non mangiare, credo, poi sarà gratis l'ingresso ma poi dopo te paghi io credo che sia fatto dentro il carro ponte ok, credo mi piace questo no, perché a Sesto San Giovanni cos'altro c'è? ma invece c'è il pala Sesto c'è il pala Sesto, ad esempio non lo so c'era scritto Sesto San Giovanni ragazzi, sapete che io sono sempre abbastanza approssimativa vi do degli spunti e voi dovete andare a cercarvi le cose ah, ok ok cioè non sono brava come tutti gli altri che passano di qua ok, va bene no, non ti sminui le cose dov'è? io ci credo poi, allora adesso sta andando di moda tantissimo il Super Studio Maxi sì che è in via Moncucco giusto che è in zona Famagosta Barona ok cioè arrivi Agile con la metropolitana Famagosta va bene e c'è una roba dove io sicuramente non andrò ma perché sono a Stemia come tutti saprete ok e c'è la Mixology Experience 2024 il Festival dei Cocktail arriva a Milano dal 15 al 17 di marzo e costa ben 25 euro una giornata? un ingresso ah però dentro lì spero ti andrà da bere gratis ma lo so vorrei che qualcuno ci andasse perché io voglio sapere di questi eventi però purtroppo è inutile che ci vada a spendere dei soldi ma anche a entrarci con un pass gratis grazie alla testata giornalistica cioè hai imparato questa cosa nuova che possiamo andare tanto non andrei perché è proprio una roba troppo distante da me ok però qualcuno se è molto interessato ci può andare a spendere 25 euro volendo andarci anche più giorni farsi così 3 giorni 75 ma no ci sarà lo sconto per 3 giorni non lo so come si chiama? si chiama Mixology Experience 2024 vabbè cercatelo su Google che saprete sicuramente cose di più di quella che vi sta dicendo Iribi in questo momento sicuramente sicuramente poi abbiamo detto che è San Patrizio sì quindi c'è l'Irland Week una settimana di eventi e musica irlandese in realtà è partita già dal 10 marzo finisce le 17 dalle 10 alle 21 su tutta Milano ci sono eventi dedicati alla festa degli irlandesi quindi sarà tutto a base verde e birra vabbè il verde è il colore che ti piace verde è il mio colore preferito la birra purtroppo no vabbè però è una cosa bella no penso di sì io non ci andrò così vado a fare che strano a comprarmi una maglietta verde a ballare magari le musiche irlandese per favore che ho già i miei problemi poi sabato sabato alle 10 quindi domani alla casa delle donne c'è una cosa che sinceramente mi ha incuriosito il titolo attenta mi ha incuriosito mi ha incuriosito il titolo molto probabilmente anche molto interessante seminario m.feldenkrais due punti movimenti delle mani e dei piedi scusa dalle 10 alle 16 sono 5 appuntamenti costano 70 euro in realtà se ci pensi costano poco gli appuntamenti perché costano 12 euro l'uno ok se la matematica non mi non lo so non ti seguo in questa cosa ma dimmi la cosa no non è è un po' di più però fai non ti seguo in questa cosa comunque fammi capire ma non ho capito che cosa è una ginnastica è un seminario che ti dice probabilmente ti parla anche della riflessologia dei piedi e delle mani molto probabilmente o te lo stai inventando l'ho letto un pochino veloce ok però mi incuriosiva moltissimo il titolo movimento delle mani e dei piedi chissà che cosa vuol dire cosa sto facendo io in questo momento con le mie mani niente stai facendo però non ci andresti neanche qua no 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 troppo filosofico ma come è ginnastica per le mani per i piedi no no troppo filosofico sono ben altri gli eventi che mi piacciono va bene ci sono altri faccio l'ultimo faccio l'ultimo dici tutto allora io ho due grandi nemici nella mia vita uno è fuori salone uno è fuori salone l'altro è l'artigiano in fiera ok e poi ho una cosa che mi indispettisce nella vita che è la giocoleria ah ok ok ma perché sabato dalle 17 alle 18 e 30 c'è il laboratorio di giocoleria per grandi e piccoli alla cooperativa il balzo a rozzano con un contributo di 5 euro quindi andateci perché sicuramente i bambini può interessare poi da grande odieranno la giocoleria però magari si divertono insomma tu non ci andrai no a parte che non ho bambini da portare per grandi e piccini ma poi comunque mi dà fastidio ma perché ti dà fastidio non mi piace ma cosa ti hanno fatto di male questi poveri giocolieri niente ho provato una volta con le clavette è andata male ti sei fatta male no no non sono stata capace ah ma mai quanto me ti ho raccontato l'unica volta che ho fatto un micro corso di giocoleria con le palline cosa hanno fatto no allora quando inizi con le tre palline si inizia con due si tu devi lanciartene una da una mano una dall'altra e in contemporanea una in alto così a un certo punto la maestra già grandicello perché avevo già 20 e passanni mi ha detto magari tu inizia con una pallina era il tuo anche questo quindi ho capito che non era proprio il mio non era proprio il mio ci ho messo un po' di anni a trovare il mio e non so ancora se l'ho trovato forse è il padel ma non lo sappiamo no no è raccontare tutte le mattine in Milano qui alla radio facciamo quello comunque andresti a qualcuno di questi eventi io non posso esprimermi sei tu quella che dici se vado vabbè io ho street food ma dai cioè Vartellina contro Brianza vuol dire pizzocchi cosa mangi in Brianza eccola quello che non lo so boh bulloni nebbia nebbia bulloni stavo dicendo cosa sono i bulloni non so cosa puoi mangiare cos'è il piatto di Biro di Brianza non lo so le pizzocche devi sopra in Vartellina e poi la bresaula sempre in Vartellina ma non saprei comunque volevo chiedere scusa ai miei fan perché io ho dei fan perché nelle ultime due settimane non ci sono stata eh ok sì ma allora una è colpa mia purtroppo stavo male la seconda è stata colpa di chi ha gestito qua i tempi hai capito cioè Viola stanno dando le colpe a noi a me e a te non è vero comunque ti abbiamo volutamente tenuto distante perché sapevamo che avresti fatto danni quella settimana sì perché era l'8 marzo ecco quindi avrei potuto dire cose non convenienti meglio non farti parlare su quel tema che è meglio vabbè Eribi grazie ci vediamo allora a Sesto Gian Giovanni per mangiare pizzocchi ma no penso di andare a fare il pane fai il pane vai a fare il pane e porto io porto vado a prendere la bresaula tu porto il pane ok va bene ecco guarda ci arriva un whatsapp risolto al risotto alla monzese con salsiccia grazie Alberto ci ricorda questo grazie Alberto vai tu magari ci dici com'è 331-78-535-555 331-78-535-555 il nostro numero whatsapp scriveteci che insomma possiamo dirvi dove non andare ciao 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 gioia avete letto avete detto che sta succedendo di tutto su Sanremo eh sì Striciana Notizia ha fatto questa notizia che ha scoperto che più di 700.000 voti del televoto non sono stati registrati quindi potrebbe cambiare nulla in realtà perché Angelina Mango ha già vinto con il televoto comunque che è calcolato così e il regolamento di Sanremo dice che nel caso ci siano problemi su situazioni di voto la RAI quella situazione la tira via e decide lei quindi nel caso ci siano problemi sul televoto viene annullato il televoto quindi rimane solo sala stampa e radio e quindi a quel punto sappiamo già perché abbiamo già visto le percentuali come erano che comunque vince lo stesso Angelina Mango quindi tutto quello che ha Oddio Angelina Mango forse non potrebbe no vince comunque Sanremo quindi le percentuali se sono quelle che ci hanno dato il giorno della chiusura di Sanremo rimangono quelle lì però effettivamente si è scoperto questa cosa lì c'è stato un overflow hanno detto un overbooking direbbe da dire cioè troppi messaggi troppi sms sono arrivati e quindi il sistema ha collassato e non è riuscito a registrare più di 700.000 voti sembrerebbe parliamo di milioni di voti e milioni e milioni di voti mai arrivato così a tanti voti ad un televoto nella storia della televisione italiana c'è proprio una cosa che non è mai visto prima d'oggi ma appunto nonostante quello comunque ha vinto Angelina Mango e quindi anche se togliamo il televoto non è che cambierebbe molto evidentemente sapevamo che le percentuali erano molto alte del televoto verso Joliet ma sapevamo anche che la percentuale invece di sala stampa e radio erano altissime verso Angelina Mango e quindi così ieri c'era una notizia di questi giorni che sta uscendo e ovviamente anche Rolling Stones ieri ne ha fatto un post su Instagram dove raccontava un po' quello che potrebbe succedere interessante il regolamento della RAI che dice qualsiasi problema c'è non c'è problema in realtà perché decidiamo noi tagliamo quello che ci interessa e decidiamo noi che mi sembra in realtà però alla fine giusto perché la RAI che la fa sta roba quindi se non loro io continuo a dire che dovrebbero levare il televoto da Sanremo cioè bisogna levarlo il televoto da Sanremo tanto poi non è Sanremo che decreta o no il successo di un cantante o di una canzone è dopo siamo noi alle radio siamo il metterle in onda sono i servizi di streaming è il pubblico che l'ascolta o non l'ascolta quindi tu fai Sanremo la RAI decide chi vince e poi gli altri si ascolteranno o no chi ha vinto o le altre canzoni cioè ripeto non ha non ha senso secondo me se non economico ovviamente quello del del televoto 7 e 52 minuti ci stiamo per fermare per una piccola pausa il giornale radio e poi un po' di musica il Cristal History e poi torniamo qui con gli ospiti di giornata oggi parliamo ancora di stadio ma attenzione non di San Siro ma di San Donato o meglio stiamo qui con il comitato Chiara Valle che ci vuole raccontare del perché il comitato di Chiara Valle è contrario a questo stadio che dovrebbe essere sul territorio di San Donato ma veramente molto molto vicino si parla di 800 metri in linea d'aria praticamente sotto casa sotto le finestre anzi nei chiostri praticamente della bazia di Chiara Valle e allora ne parleremo subito dopo il giornale radio qui in diretta su Cristal Radio a Good Morning Milano diteci anche voi cosa ne pensate 33178 53555 e andiamo con la musica The Bangles con Manic Monday il Cristalistori delle 8 qui su Cristal Radio a Good Morning Milano venerdì 15 marzo anche se era Manic Monday in realtà oggi è Thanks God it's Friday ma ve l'ho detto prima della pausa oggi parleremo di stadio ma per una volta non parliamo di San Siro o meglio non direttamente anche se la storia che andiamo a raccontare ovviamente è legata al futuro di San Siro stiamo parlando del stadio del possibile fantomatico spero non possibile per il nostro ospite stadio di San Donato del Milan buongiorno a Fabio Songa buongiorno a voi buongiorno a tutti allora Fabio buongiorno grazie di essere qui con noi tu fai parte dell'associazione Borgo di Caravalle sì ma l'associazione Borgo di Caravalle è una delle più di 20 associazioni che fanno parte diciamo di questo comitato che sta dicendo no a questo stadio e lo sta dicendo nonostante questo stadio in teoria San Donato mi diceva ma cosa volete vuol dire di Caravalle a San Donato perché a Caravalle sul piede di guerra ma difatti guarda noi adesso stiamo usando sempre più l'espressione no allo stadio a Caravalle barra San Donato io a luglio ho avvicinato come appunto rappresentante dell'associazione Borgo di Caravalle che da molti anni si batte contro il degrado e per la valorizzazione di Caravalle ho avvicinato i membri del nascente comitato non stadio di San Donato e loro mi hanno detto si guarda per noi è un disastro lo stadio ma per voi è una tragedia e così mal comune mezzo gaudio ma in questo momento ma Anna Franca ha detto che mal comune non è mezzo gaudio infatti nessuno gaudio nessuno gaudio qui in un certo senso infatti qui la sofferenza vostra è lampante perché questo progetto andrebbe veramente a impattare tantissimo sulla vostra si si guarda proprio venendo qua in metropolitana stamattina tra l'altro vengo da Caravalle sono uscito dalla metropolitana guardando Miss San Siro quindi c'è quasi qualcosa di simbolico Fiorouge esatto ho letto su Milan News 24 che il Milan comprerà dico la frase esatta perché fa un po' impressione a breve l'acquisto di nuove terre stranissima anche espressione terre tradotto vedendo i disegni si vogliono comprare altri pezzi del parco sud e indovinate per che cosa per fare migliaia di posteggi e si perché poi c'è quel tema lì ok fare lo stadio ok fare le facilities che farei intorno ma in più poi dove le mettiamo le macchine tutti quelli che andranno lì visto che comunque non è poi una zona così ben servita quel punto perché se uno dice ah San Donato c'è la metro sì ma non è che lo fanno sulla metropolitana nello stadio no 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 lo fanno praticamente appunto sulla abbazia di Chiaravalle più o meno verso l'abbazia di Chiaravalle sì difatti noi abbiamo se mi permetti un'importante novità dell'ultimo mese che è uscito un manifesto a firma della comunità monastica di Chiaravalle della comunità parrocchiale di Chiaravalle e del centro Nocetum che è un importantissimo centro milanese e lombardo contro lo stadio i monaci si sono espressi in maniera durissima parlano dello stadio come una violenza al territorio non è male mia mamma diceva sempre fai perdere la pazienza anche ai santi ecco il Milan è riuscito a far arrabbiare i monaci devo dirvi complimenti sì 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 veramente noi abbiamo incontrato quelle poche volte che abbiamo potuto farlo perché dopo spiegherò se qualcuno interessa c'è un deficit di democrazia in tutta questa storia quando ho avuto modo di parlare con l'assessore di San Donato io gli ho detto proprio questo siete circondati perché avete contro di voi i monaci avete contro di voi Nocetum avete contro di voi la parrocchia di Chiaravalle la parrocchia di Piazza Rosa avete contro di voi tutte 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 le associazioni territoriali ambientaliste cosa volete questo assessore è stato eletto con un programma ambientalista contro il consumo di suolo allora io gli ho detto una cosa semplice che vorrei proprio arrivasse anche al sindaco di San Donato avete promesso delle cose nella campagna elettorale state lavorando per fare il contrario dimettetevi e tornate alle elezioni dicendo eleggeteci per fare lo stadio adesso sono stati eletti per non consumare suolo quindi quello che stanno facendo è incoerente ed è mancanza totale di rispetto per i cittadini e questo va a dire un po' il tema che c'è perché su tutta questa storia effettivamente l'abbiamo vista anche qui adesso torniamo dalla parte di San Siro insomma c'è stata la consultazione popolare però poi il referendum l'è stato voluto fare voi avete anzi proposto c'è un'idea di fare un referendum giusto? no no è già stato depositato a San Donato ovviamente io sono un cittadino di Milano quindi non potrò votare eventualmente quel referendum però il comitato di San Donato sono andato anch'io alla presentazione alla conferenza stampa ha presentato un referendum che ovviamente non può che essere consuntivo che chiede proprio questo volete voi cittadini uno stadio sul territorio di San Donato ma voglio aggiungere un'altra cosa i tecnici del comune di San Donato hanno avanzato una tale quantità di criticità che sono assolutamente irrisolvibili per cui noi diciamo questo ma fermatevi in tempo anche perché i cittadini di San Donato si stanno lamentando sempre più perché l'amministrazione si sta occupando solo di questo e la città va a rotoli questa è una vergogna prima l'hai nominato oltretutto siamo nel parco avicolo sud Milano non è una zona qualsiasi senza nulla togliere le zone qualsiasi il parco sud Milano è nato per una esigenza fondamentale anche l'altro giorno l'Europa ci ha richiamato su questo il consumo di suolo l'inquinamento questa è una delle zone più inquinate d'Europa ma insomma vogliamo costruire uno stadio distruggere ettari di terreno permeabile oltretutto voglio dire una cosa banale sopra una falda a pochissimi metri di profondità c'è una falda io che vivo a 70 metri da dove dovrebbero fare i parcheggi e le pertinenze dello stadio vivo in una casa in cui sono aperte continuamente le pompe per scaricare l'acqua perché se no ci entra nei garage nelle cantine figuriamoci con un intervento di quel tipo è cemento perché è cemento è cemento abbiamo detto tante volte l'abbiamo detto quando parliamo di Seveso quando parliamo di Lambo quando parliamo del perché l'acqua non va dove dovrebbe andare va dove trova terra e se c'è cemento non va lì va dall'altra parte quindi insomma questo è quanto ma allora adesso ci fremo un attimino andiamo con un po' di musica poi torniamo ancora qui a parlare perché i temi sono tanti è interessante anche il volantino con cui siete usciti che dice no allo stadio a Chiaravalle sì alle Cicogne infatti dopo ne parliamo molto volentieri bisogna far capire anche bene perché stiamo parlando di Chiaravalle perché quel posto quel borgo quel luogo è così importante e va salvaguardato non solo dallo stadio ma in realtà deve salvaguardato in generale in questo caso però di più valorizzato valorizzato ecco grazie grazie Fabio appunto andiamo con un po' di musica è Danti che nella sua canzone insieme a Nina Zilli racconta di un vasco a San Siro Danti come vasco a San Siro insieme a Nina Zilli e invece potremmo dire se vasco va a San Siro le Cicogne vanno a Chiaravalle perché è così questo interessante volantino del no allo stadio ha un twist che non ti aspetteresti mai perché dice no allo stadio a Chiaravalle sì alle Cicogne perché? ma guarda perché c'è un progetto per riportare le Cicogne a Chiaravalle quindi bisogna migliorare il territorio nel senso della naturalizzazione del territorio vi ci ritornare perché storicamente perché storicamente pensa che il municipio 5 ha come simbolo la Cicogne l'abbazia di Chiaravalle ha come simbolo la Cicogne nel nostro piccolo la nostra associazione ha come simbolo la Cicogne voglio dire una cosa però che per me è importante non c'è solo lo slogan che è molto bello non stadio a Chiaravalle sia alle Cicogne ma c'è anche un bellissimo disegno che ha fatto un cittadino di Corvetto che fa parte dell'associazione Amici della Ciribiciaccola e ce l'ha regalato poi abbiamo fatto un filmato che gira moltissimo di un minuto che ha fatto un filmmaker di Chiaravalle che pensate un po' ci tiene a non dire il suo nome cioè che il suo nome non venga reso noto ma con una motivazione che secondo me è bellissima perché questo deve essere visto come una comunità che si esprime e noi ci esprimiamo come comunità stiamo raccogliendo tantissimi consensi io personalmente ho convinto quasi tutti i miei vicini di casa che all'inizio non avevano capito bene perché qui il problema come al solito è la conoscenza quando tu conosci un problema lo puoi affrontare noi abbiamo degli ether sui social che sono mostruosi perché dimostrano di non sapere di che cosa parlano noi lo sappiamo perché nel nostro comitato ci sono esperti ci sono studiosi ci sono docenti del Politecnico ci sono geologi cioè noi parliamo di cose che conosciamo come fare però a scongiurare l'effetto nimbine se voi sembrate quelli del nono tutti dicono ecco ecco è nato l'ennesimo guidato del no noi nimbine not in my backyard non nel mio giardino so questa cosa ma in realtà noi nel nostro giardino lo stiamo coltivando da tanto tempo perché noi stiamo lavorando da anni perché Chiara Valle è il suo territorio che ripeto è un territorio unico per il patrimonio storico sono mille e rotti anni di lavoro sul territorio fatto dai monaci sono una costruzione di un sistema di abbazie e di un sistema di cascine collegate alle abbazie le cosiddette grange e noi da anni ci stiamo battendo perché questo territorio diventi penso un po' patrimonio culturale dell'UNESCO dell'umanità quindi noi stiamo lavorando da tanto aspettiamo le cicogne aspettiamo che questo si inserisca pienamente in un percorso che si chiama Cammino dei Monaci stiamo lavorando nella Valle dei Monaci questa deve essere una zona per cui Milano diventa orgogliosa di avere un patrimonio storico dell'UNESCO non monumentale ce l'ha già perché è il cenacolo ma storico paesaggistico non ce l'ha nessuno e noi vorremmo che Milano ce l'avesse vorremmo che il nostro sindaco si impegnasse in questa direzione Fino adesso abbiamo fatto appelli al sindaco di San Donato all'Aggiunta di San Donato però anche qui c'è un altro tema cosa dice la giunta di Milano il municipio cosa dicono i consiglieri insomma avrete sicuramente parlato con la presenza politica milanese Sì io sono intervenuto molto recentemente c'è stato un consiglio comunale congiunto con il municipio 5 ho fatto un intervento proprio chiedendo un impegno preciso non ci basta che il sindaco dica che lo stadio a San Donato è difficile da realizzare noi vogliamo che il sindaco il consiglio comunale le forze politiche di Milano e lo stanno facendo dicano che non si deve fare lo stadio a Chiara Valle ah infatti perché è quello il problema nel senso loro dicono perché poi immagino che non possiamo dirci niente il problema è a San Donato però ricordiamo una cosa che il sindaco Sala è anche il sindaco della città metropolitana è certo che è uno degli attori coinvolti in questo accordo di programma che viene sempre invocato l'altro è il Parco Sud il Parco Sud si è già espresso ha detto che non approva nessun tipo di intervento nel Parco Sud tantomeno i famosi parcheggi a raso che sono una presenza perché anche qui c'è poi un piccolo cavillo nel senso che lo stadio non sarebbe sul territorio del Parco Sud ma diciamo che poi i furgoncini dei panini posteggerebbero invece sul Parco Agricolo più o meno nel senso che il confine è quello migliaia 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 di macchine che sarebbero dappertutto e quindi attualmente questo spazio non c'è quindi sembrerebbe anche della notizia che abbiamo letto questa mattina di questi nuovi acquisti che potrebbero essere fatti proprio per fare questi posteggi ma come dicevi il Parco Agricolo di Milano si è già esposto assolutamente all'unanimità ha votato contro quindi è una bella cosa se tutti gli attori cominciassero a dire che sono contrari stopperemmo subito non faremmo perdere tempo ai cittadini di Chiaravalle non faremmo spendere soldi il comune di San Donato ha già speso decine di migliaia di euro per questo progetto perché e mentre chiedete ai cittadini di San Donato quanto sono contenti dell'amministrazione in termine di vita quotidiana dei cittadini questo è un suggerimento allora anche per la nostra produzione abbiamo capito il prossimo è Comitato San Donato il Comitato deve venire qua assolutamente perché comunque questa storia è veramente interessante per come appunto si sta facendo grande eco non solo nel comune di San Donato ma anche quindi poi in Milano perché ormai è ovvio che quando io faccio una cosa anche se solo vicino vado poi a impattare anche su un altro comune sì assolutamente poi ripeto questa è una zona strategica l'Europa ci ha tirato le orecchie qualche giorno fa è una delle zone più inquinate d'Europa cosa vogliamo fare ancora costruire ancora portare traffico ancora distruggere verde è una follia prima follia poi diciamo anche una cosa magari uno ci va è andato anche a vivere a Chiaravalle sperando e cercando qualcosa questo è fondamentale questo è fondamentale facendo il mio esempio io vivevo in centro Milano ho due bambine molto piccole abbiamo deciso con mia moglie di andare a vivere in una zona in cui i bambini crescessero in mezzo al verde e non nel disastro cittadino io ho fatto questa scelta e come me l'hanno fatta tutti quelli che sono venuti a vivere a Chiaravalle in questi decenni che si sentono veramente impotenti e chiedono di essere difesi da chi deve difenderli cioè il sindaco di Milano prima di tutto infatti perché io porto sempre questo esempio noi ad esempio con i nostri studi siamo vicinissimi allo stadio stadio che però c'è qui dal 1920 quindi ormai sappiamo che è qui e quindi io un po' ogni tanto con i comunitati ci vanno un po' a litigare dicendo ma ragazzi ma di cosa volete lamentare lo sapevate che se venivate qua a vivere c'era lo stadio c'è il traffico poi si può migliorare sempre tutto ma è così cioè lo sapevate e si è arrivata in un'altra zona qui è diverso invece io ho scelto quella zona perché c'era delle caratteristiche mi hanno promesso che quelle caratteristiche sarebbero anzi migliorate e invece mi ritrovo difatti noi siamo solidali con i comitati di San Siro ma i comitati di San Siro chiedono una ristrutturazione se sono opposte all'abbattimento e se sono opposte soprattutto a nuove costruzioni nell'area della Maura noi li appoggiamo sono nostri amici ci vediamo spessissimo e abbiamo in comune proprio questo tipo di battaglia eh sì perché poi quella cosa lì delle nuove costruzioni che ogni volta tutte le giunte quasi tutte ormai promettono appunto il consumo zero e poi invece si arriva a il grattacielo il palazzetto la cosa tra parentesi in un'area quella lì del sud Milano che comunque insomma è ben cioè ci sarà la porta romana con lo scalo romana e il palazzetto nuovo a Santa Giulia insomma non sarà semplicissima di gestione ma vedremo anche appunto cosa succederà i tempi loro cosa dicono non c'è non ci sono ancora tempi per il momento hanno già raccontato cose se leggete i siti del Milan parlano della prima partita nella stagione 28-29 credo che siano tempi assolutamente impensabili e comunque per quanto mi riguarda e per quanto ci riguarda faremo tutto il possibile perché primo non si decida di fare ma secondo faremo rallentare in tutti i modi legali possibili lo prometto questa non è una minaccia ma una promessa che è diversa una promessa molto serena molto tranquilla che è diverso ci sono io cerco di non perdere la pazienza ma vi assicuro non deve essere facile no non è facile soprattutto perché io sono un ex insegnante a me piace ragionare parlare con le persone che comprendono tutte le volte che mi sono confrontato con gli amministratori di San Donato le pochissime volte l'abbiamo imposto noi perché c'è un deficit di democrazia a San Donato i cittadini non sono ancora mai stati coinvolti e tutte le volte mi trovo di fronte all'impossibilità di discutere perché tu puoi discutere con le persone che sanno di che cosa parlano e questo è drammatico e insomma sappiamo come i cittadini dovrebbero sempre invece avere la prima parola ascoltiamoli poi si può trovare di ragionare si può trovare la mediazione ma ascoltiamoli prima anche perché poi sono quelli che vanno a mettere la crocetta sulla vostra scheda elettorale cari miei politici è vero che siamo sempre di meno andare a mettere quella crocetta forse su questo però siamo sempre di più a far parte di comitati che difendono il territorio io da laico sono contento di lavorare insieme ai monaci ecco questa cosa che comunque Minan questa cosa che avete fatto incazzare i monaci veramente no ti dico di più domenica mattina saremo tutti insieme davanti all'abbazia di Chiaravalle a diffondere sia il manifesto dei monaci sia quello delle associazioni perché abbiamo un comune sentire assoluto allora veramente avete fatto veramente uno spettacolo se siete riusciti a fare siete riusciti a fare uno spettacolo Minan allora andremo con Manini spettacolare Camilla Cabello Bam Bam insieme a Head Sheeran 8 e 34 minuti ultimi minuti della nostra trasmissione ma siamo ancora qui con Fabio Songa dell'associazione Borgo di Chiaravalle che ci sta spiegando appunto il perché è una questa delle associazioni che dice no allo stadio a San Donato per fortuna è una delle tante posso permettermi di dire una cosa un po' privata io sono milanista ecco no ma sono un tifoso sembra una banalità ma in realtà è importante dire questa cosa perché spesso l'abbiamo visto qua a San Siro ma immagino che succeda anche lì gli schieramenti poi sono quelli già siamo Milani Inter in qualsiasi cosa allora guarda siccome io sono uscito in un po' di interviste sia in video sia in radio una mia amica mi ha scritto mi ha detto cavolo hai ragione bravi però chissà quanti insulti prende io ho detto guarda mi scivolano addosso tranne quello che sono o Interista o Juventino ecco io sono milanista orgoglioso ho visto giocare Rivera tifoso ho visto sono andato allo stadio tantissimo ho visto giocare ho la fortuna sfortuna vuol dire che sono vecchio di aver visto giocare Rivera l'ho detto insomma forse allora è anche doppia la rabbia infatti la delusione la rabbia volevo dirti una cosa su questo io proprio approfitterei dei microfoni per dire che io spero che all'interno del mondo Milan si crei un grande rispetto nei confronti di Chiaravalle ci si renda conto che San Siro è la scala del calcio lo è sempre stato si può ristrutturare si deve ristrutturare Chiaravalle è Chiaravalle deve rimanere Chiaravalle e mi piacerebbe che tifosi giocatori ex giocatori uomini di spettacolo dicessero questa cosa semplice che diciamo noi non stadio a Chiaravalle sia alle Cicogne sia alla ristrutturazione di San Siro abbiamo uno stadio bellissimo lo possiamo risistemare perfetto dov'è il problema infatti sembrava che non ci sia un problema invece siamo qua a parlarne voi da settembre avete iniziato la vostra mobilitazione il comitato di San Donato ha cominciato prima noi abbiamo preso i contatti a luglio la prima grande assemblea che abbiamo fatto a Chiaravalle veramente grande mi sono stupito della quantità di cittadini che sono venuti è stata il 26 settembre da allora ne abbiamo fatte tre da allora devo dirti orgogliosamente che siccome io sono un felice pensionato sto spesso al bar della bellissima bakery di Chiaravalle dove si beve uno dei caffè migliori si mangia uno dei panni migliori di Milano mi fermano i cittadini che non conoscevo e mi dicono ma hai convinto ci avete convinto anzi ci avete convinto non vorrei mai sovrapporre la mia persona a una battaglia che coinvolge centinaia di persone decine di associazioni e volevo dire un'altra cosa è stata un'esperienza difficile ma bellissima perché ho conosciuto tante persone di San Donato di Poasco di Chiaravalle che non conoscevo abbiamo costruito una rete usiamo il nostro tempo libero i nostri soldi tutto quello che facciamo è assolutamente a carico nostro però siamo affratellati da un obiettivo comune che non è il nollo stadio è il sì alle cicogne è il sì alla valorizzazione del territorio tra i firmatari c'è Nocetum Nocetum sta da anni seguendo con una apposita commissione della regione sta studiando i percorsi per la valle dei Monaci dentro questo territorio e alla mia domanda Gloria Mari che è una delle fondatrici di Nocetum ha detto ma abbiamo preso in considerazione anche passare dentro l'area di San Francesco perché lì c'è una grangia cioè una cascina del circuito del cascino di Abbazia di Chiaravalle purtroppo in condizioni di totale abbandono ma se voi andate a Nocetum fuori c'è un bellissimo cartello che illustra il concetto di valle dei Monaci e voi provate a disegnarci in mezzo uno stadio e capirete poi fate il giochino qual è l'elemento che non c'entra chi è l'intruso ecco i monaci ve lo stanno già dicendo infatti ricordiamoci un po' le prossime tappe della vostra battaglia ma guarda domenica noi ci troviamo tutti insieme cioè chi ha firmato le associazioni che hanno firmato il cartello e il volantino uno stadio a Chiaravalle e quello che hanno le associazioni del mondo cattolico e dei monaci che hanno firmato il manifesto uno stadio accanto alla Abbazia che è una domanda retorica perché la risposta è no e ci troviamo insieme volantineremo cercheremo di parlare perché più si parla più si portano argomenti più la gente si convince poi il 7 aprile avremo all'Arci il circolo Arci Pessina di Chiaravalle un'iniziativa in cui verrà presentato il libro di Facchetti quindi figlio di un grande giocatore dell'Inter e interverrà il comitato proprio contro lo stadio e probabilmente 9 è una data da verificare ancora a Chiaravalle presenteremo la proposta di ristrutturazione di San Siro proprio perché noi non siamo solo per i no ma diciamo dei bellissimi sì sia alla ristrutturazione di San Siro sia alle Cicogne sia alla Valle dei Monaci sia al fatto che Chiaravalle sia il rifugio anche spirituale per i cittadini di Milano per i milanesi perché no lo è stato per anni per centinaia centinaia di anni perché no non poterlo ancora oggi dove forse anzi abbiamo bisogno di più spiritualità ora che prima mi sembra dire quindi insomma assolutamente a prescindere dal Dio in cui pregare forse un po' di spiritualità l'abbiamo bisogno un po' tutti quanti o anche senza nessun Dio perché quello è un luogo dello spirito io appunto ripeto sono laico agnostico ma tutte le volte che entro in abbazia o che giro per i chiostri mi sento parte di un tutto è veramente un luogo pazzesco che vi invito se non l'avete ancora conosciuto perché vabbè ogni tanto i miei milanesi poi sono un po' duri li comprendo ogni volta quindi tiro le orecchie ai miei chiarissimi milanesi che sono in collegamento in questo istante dentro l'abbazia di Chiaravalle opera una struttura una cooperativa che si chiama Coinee che fa delle visite guidate bellissime non solo dentro l'abbazia ma consiglio i milanesi a vedere il mulino di Chiaravalle che è meraviglioso un posto stupendo fuori dal tempo tu in pochi minuti passi da Corvetto e dalla città trafficata in un luogo eterno e poi gli dico sempre questo perché facciamo in modo che appunto la città trafficata vada a contaminare Chiaravalle non possiamo per una volta fare in modo che sia Chiaravalle contaminare la città trafficata proviamoci almeno una volta proviamoci vediamo quello che può essere magari scopriamo che riusciamo a far diventare delle osi di bellezza e di serenità anche zone che adesso ahimè ci sembrano impensabili Fabio grazie mille davvero di essere qui con noi oggi grazie a voi sono molto contento saluto tutti quelli che ci hanno ascoltato tienici aggiornati tutti i svolgimenti e aggiornamenti del comitato e della storia su questo stadio e senti in bocca al lupo e in bocca al lupo anche voi per il vostro lavoro dai grazie mille grazie mille ancora a Fabio Song associazione Borgo di Chiaravalle cercateli sui social su internet su google c'è questo video poi che metteremo anche sui nostri sui nostri siti per farvi vedere questo bellissimo video che racconta un po' un minuto giusto Fabio anzi ci tengo a dire se posso che questo video l'ha fatto un filmmaker un mio vicino di casa che ci tiene al fatto di non dire chi è non per modestia ma perché vuole che questo video sia l'espressione di una collettività ed è un messaggio bellissimo appunto quanto è importante questa battaglia grazie mille Fabio andiamo avanti con un po' di musica poi torniamo qui per gli ultimi minuti in trasmissione e con i saluti adesso è il momento di Tektronic con Pump Up The Jam Tektronix Pump Up The Jam 8.46 minuti quasi alla fine ma io ringrazio chi ci sta scrivendo in questo momento al 331-7853-555 Marilena ci scrive anzi ci manda una foto ci manda una foto di un furgone di Milano Ristorazione dicendo non ne hai più parlato è vero e dicendo anche ascoltandoti ormai ascoltandoti ormai conosco tutto tutto della nostra città questa foto è una scusa per dirti grazie che tutti i giorni parli di Milano e ci racconti di Milano ma grazie a te Marilena sì effettivamente non abbiamo più detto niente su Milano Ristorazione pezzi di vetro panini pezzi di plastica latte nella zuppa perché al momento appunto stanno facendo tutti le cose del caso i rilievi del caso stanno vedendo cosa sia successo quindi al momento non ci sono notizie siamo rimasti appunto al fatto che il comune stava provvedendo e stava indagando su quello che era successo però sono contento che appunto che mi siete attenti bravi siete sempre attenti a quello che raccontiamo tutte le mattine qui a Good Morning Milano bene 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 siamo molto molto contenti e una cosa che ci tengo a dire non è che è colpa di quelli che guidano i furgoncini inviando ristorazione cioè adesso non urlategli dietro se li vedete dicendo c'è la plastica dei panini ecco no non è colpa loro però vedremo e come mai capiremo del perché è successo o no questa situazione che si sta protrando mai da giorni ricordiamo appunto che in alcune scuole è stato ritirato il pane e sono stati dati i grissini i cracker e mi fa sempre molto ridere questa cosa sembra un po' la regina che dà le brioche al posto che dice di mangiare le brioche al posto del pane comunque il comune in realtà la cosa è molto seria infatti il comune sta cercando di capire insieme anche ai vertici di Milano ristorazione che cosa sia andato storto e trovare una soluzione questo è quanto per tutte le notizie appunto di oggi che abbiamo dato abbiamo anche qualche altra notizia abbiamo parlato appunto delle inchieste e dei vari problemi che ci sono sulle nuove costruzioni sull'urbanistica di Milano che ha dei problemi ma invece una bella notizia che arriva da Bruzzano è che apre il campo multisport del municipio 9 dedicato a Davide Astori il nuovo campetto multisportivo è nato dalla collaborazione tra il comune e Fondazione Milan quindi se non oggi torniamo a raccontare di quando invece le società di calcio Fondazione Milan in questo caso possono fare qualcosa di buono per la città si chiamerà Spazio Fontanelli il nuovo campo che verrà inaugurato in via Volga a Bruzzano che poi prenderà il nome di dedicato il campo sarà dedicato appunto a Davide Astori è frutto della collaborazione tra il comune di Milano e la Fondazione Milan in cooperazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Fondazione Aquiloni e Associazione Astori appunto il campetto è come abbiamo detto in via Volga a Bruzzano ed è un campetto multisport quindi ben venga finalmente sarà inaugurato verrà inaugurato quest'oggi dovrebbero esserci il sindaco Sala e anche Maria Teresa Bellucci che è Vice Ministro del Lavoro delle Politiche Sociali oltre al Vice Presidente del Milan Franco Baresi che quindi insomma dovrebbero tagliare il nastro di questo interessante campetto hanno tenuto a precisare multisport perché finalmente non parliamo solo di calcio parliamo di tanti altri sport che devono e devono devono prendere spazio tra i cittadini e tra i più giovani in modo che poi ci sia passioni e magari i risultati ci sono già abbiamo visto nel tennis cosa riusciamo a fare la palla a volo cosa riusciamo a fare la palla a mano la palla a nuoto cosa riusciamo a fare nel calcio insomma quindi forse men venga che anzi andiamo a investire su altri su altri sport che potrebbero portare grande successo al nostro paese Sigla 8 e 54 minuti siamo arrivati alla fine di questa puntata di Good Morning Milano come sempre qui su Cristal Radio e come sempre dopo di noi dopo di noi ci sarà il bravissimo Ambrogio Curti con senti questa la più grande musica mondiale internazionale ma anche nazionale raccontata dalla sua preparatissima voce ed è venerdì e quindi buon weekend a tutti siete pronti siete pronti avete già fatto i bagagli per andare a farvi una bella gita fuori porta c'è il bel tempo si potrebbe fare anche un bel barbie qui da qualche parte non lo so forse è un po' troppo esagerato io penso sempre a Magna c'è poco da fare o anzi fatevi un giro a Chiaravalle abbiamo parlato di Chiaravalle questa mattina andate a farvi un giro a Chiaravalle c'è un autobus anche che ci arriva non mi ricordo cosa o comunque ci sono delle belle piste ciclabili che ci arrivano quindi potete tranquillamente andarci farvi un giro alla Abbazia ma anche nel Borgo e fatevi un giro a tutti nel Borgo perché non è male anzi è molto interessante domani mattina finalmente si dorme perché è sabato buon weekend a tutti e soprattutto un grande e grazie immenso grande 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 abbraccio a Viola la nostra producer che oggi finisce grazie Viola ti abbiamo voluto bene ci mancherai tantissimo e grazie anche a Francesca ai social che oggi anche lei ci saluta grazie mille per il vostro lavoro e benvenuti ai nuovi perché ne abbiamo veramente tante davanti da fare insieme ciao buon weekend da lunedì grazie a tutti